La situazione è a quanto incerta, in quanto sicuramente i punti che dobbiamo approfondire sono numerosi, sono complessi, c'è un atteggiamento anche un po' oscillante, un divago del sindacato che a volte viene avanti su alcune posizioni, poi le rivede, le ripensa. Comunque questo non deve portare assolutamente incertezze in periferia in quanto noi abbiamo una linea molto chiara, molto precisa che è stata decretata ed è nelle circolari ministeriali che sono operative, che sono in funzione e quindi la periferia è tenuta a rispettarle. In Parlamento abbiamo presentato un disegno di legge di riforma che è organico e quella è la linea del governo sulla quale io sono impegnato. A Genova sono in programma scioperi anche per la prossima settimana? Genova ancora non si è chiarita bene cosa intende fare perché è dallo sciopero generale rientrata a lavorare alcuni turni per alcuni servizi. Sicuramente la linea del governo anche per Genova è estremamente chiara, noi andremo ad applicare i decreti ministeriali e le circolari ministeriali e faremo tutto il possibile perché a Genova si lavori.